Ciao ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Questa volta una nuova tipologia di video perché per la prima volta vado ad assaggiare un prodotto che non ho mai assaggiato prima e siccome ho mostrato la foto in Instagram e un'amica mi ha detto sono curiosa di sapere il sapore di questo prodotto e sono molto curiosa anch'io di conoscerlo, ho pensato di fare un video così magari do qualche idea perché dovesse viaggiare da quelle parti. Quali parti? Allora sabato il Sontino è andato in gita con gli ex colleghi di lavoro di tanti anni fa perché ormai Sontino è in pensione da parecchi anni, più di me, però si ritrovano c'è una bella associazione di appunto ex lavoratori di questa azienda e organizzano spesso queste gite a cui a volte ho partecipato anch'io, gite ma anche visite a mostre anche qui nella mia città o località qui nei dintorni, comunque a farla breve. Io non sono andata questa volta perché sabato avevo vari impegni tra cui anche la celebrazione di un matrimonio civile, non potevo certo disdirla, insomma era una cosa importante e comunque la gita era Bassano del Grappa e Marostica. Marostica io sapevo che era famosa per le ciliegie non sapevo che era famosa anche per gli asparagi bianchi, per l'asparago bianco, quello grande, tutto bianco che tra l'altro costa un botto, però è una specialità. E quindi in un negozio di Di Marostica il Sontino ha preso tra le altre cose, tra cui anche una bottiglia di un liquore alla ciliegia è stato incuriosito e ha comprato questo. Questa è la scatola dove c'è raffigurata appunto la parte principale della città di Marostica che è la piazza con la scacchiera. Sapete che a Marostica ogni anno si fa una partita a scacchi con persone reali su questa piazza appunto che ha questa scacchiera molto particolare. Marostica è in provincia di Verona quindi è abbastanza vicina a noi. Verona o Vicenza? Adesso mi viene il dubbio. Poi controllo. E ha trovato, consigliato anche dalla proprietaria del negozio, questo prodotto che è un paté di asparagi e ciliegie. Ora in effetti l'accostamento è abbastanza particolare. L'asparago di per sé ha un sapore abbastanza deciso, abbastanza forte. Le ciliegie, se sono quelle belle mature, sono anche dolci a meno che non sia la marena in questo caso. Però vediamo nella composizione. Ciliegie dice. 12% ciliegie, asparago 65%. Poi il resto sono sale, olio extravergine. E qui dice ideale per bruschette, fettuccine e con le frittate. Secondo me, per le bruschette, io poi sono una fanatica delle bruschette, mi piacciono di tutti i tipi, dalla classima bruschetta olio e pomodoro, a quelle un po' più, alla bruschetta toscana, a quelle un po' più elaborate. Sono curiosa di provare appunto questo patè di ciliegie e asparagi. Io non ho bruschette a disposizione, ma ho a disposizione questi, queste piccole gallette di kamut, così faccio un assaggino piccolo e vado ad aprire, palettino per sparmare, vado ad aprire il mio barattolo. Il profumo è decisamente di asparagi. Non sento niente che mi ricordi la ciliegia. La consistenza è questa, abbastanza densa, direi decisamente densa. Vado a prenderne proprio una punta, è un po' granuloso. Vedete il filo, il filo dell'asparago? Ne prendo proprio un pochino, lo vado a mettere sulla mia piccola galletta e lo assaggiamo, così è contento qualcuno che me l'ha chiesto di far sapere come era il sapore. Non ho capito bene, vado ad assaggiarne un altro. Allora, è squisito. Sinceramente non saprei dire a questo sapore quant'è l'apporto delle ciliegie, perché sente decisamente di asparagi. Ma è un sapore abbastanza dolce, abbastanza delicato, anche se ben definito. Io penso che proverò proprio a fare la vera bruschetta, quella tostata e poi magari unta. Magari gli darò anche una grattatina di aglio, perché a me non vado pazza per l'aglio, però tante volte è indispensabile per dare sapore a una pietanza. Magari farò proprio la classica bruschetta tostata, il pane tostato con la strofinatina di aglio, il filo d'olio e poi sopra questo che è veramente delizioso. Anche se al momento ero un po' perplessa, perché ripeto, l'accostamento ciliegia e asparago mi ha dato un po' da pensare, però è veramente squisito, buonissimo. Se passate dalle parti di marostica ve lo consiglio, anche se è un po' caruccio come prodotto, però insomma dovete pensare che comunque l'asparago di per sé il asparago bianco è pregiato. In più c'è la ciliegia, io ho visto il prezzo delle ciliegie adesso al mercato, insomma è come andare dall'orefice, è veramente alto, quindi è anche giustificato, anche perché suppongo che duri per un bel po'. Sono contenta di aver assaggiato in diretta con voi questa specialità, sto pensando cosa fare con questa scatola perché mi dispiacerebbe buttarla via, è una semplice scatola di cartone però c'è ricordo, magari ci metterò qualcosa, sto pensando di mettere, perché io quando vado in hotel, ristoranti, trattorie, posti nuovi, tengo sempre, prendo sempre il bigliettino da visita e ne ho accumulati un bel po', magari li metterò dentro tutti qua, così non vanno perduti. Io spero così di avervi dato qualcosa di curioso da vedere e spero di avervi tenuto per qualche minuto un po' di compagnia, vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. Ah, il battesimo di Margherita è andato non bene, di più, perché siamo partiti che faceva freddissimo, infatti non mi sono fidata a mettere le scarpe argentate perché poteva piovere da un momento all'altro e invece poi nel pomeriggio è uscito un sole meraviglioso, e meno male perché eravamo in un posto con un parco per i bambini fuori, almeno i bambini sono potuti uscire a giocare. Magari vi metto proprio così di sfuggita una foto che ho fatto i bambini tutti insieme ed è stata una bellissima giornata come speravamo. Ripeto un abbraccio, ripeto un sorriso, aggiungo un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!